Per il popolo italiano, il cibo non è solo un mezzo per la sopravvivenza. Il cibo definisce il popolo italiano. Appartiene alla loro storia e cultura come Raffaello e Leonardo da Vinci. L'italiano domenica a sacco sono il miglior esempio, un'esperienza unica a tutti dove brero provare. 5% degli italiani mangiano i fiori della domenica, mentre 9-5% sono a casa a mangiare quando una mamma è possibile. Il pranzo della domenica è solitamente dedicato a parenti o a casa di un amico. Qui un gruppo di amici parlano durante il pranzo della domenica. Come va Maria? Molto bene! Ah, vieni bene! Delizioso! Vuoi mangiare un limone? Sì? Piace? Mmmmm, mi ami, oh la la! Ciao, mi chiamo Maria e io cucino la cena italiana. Faccio il pollo piccato. Faccio il pollo piccato. Il vino bianco. Molto delizioso! Finito! Ah! Bene! Molto bene! Pasta e il pollo piccato. Mangiamo amiche! Sì. Ok. 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 Luisa, come stai e tu marito? Stiamo bene! Ma Gaetano è intenso e impegnato. Lui è in nostro ristorante, prepara per ieri. Ieri è il domenica e un giorno importa perché molte persone verranno per uno pranzo grande e eccellente dopo la chiesa. Ieri ho letto nove di Firenze e a decinella Italia le persone saranno andate alla chiesa perché è di Francesco. Francesco è il migliore papa. Come stai? Hai un fidanzato? Non, io non bisogno nessuno. A notte le sono impegnate. Mio lavoro è anche intenso. La moda è sempre più importante di commercio nella Italia e Salvatore Farraghegno il più popolare di moda più fiorenze. Mio lavoro è molto buono. Alle scarpe del mi sono. Meravigliosi. Lo adoro il mio lavoro. E tu? Magari il mio lavoro è intenso ma è noioso. Sono cantabellata numeri tutti. Il giorno numeri. E su scuola come va? Che buono! Studi la moda. Conoce adorata con i vestiti. Io sono allegra quando sono crescione mio vestiti. Ah, sono allegra quando sarei crescione vestiti per qualche anno. Amanda, quante mesi ha Ari? Ari ha undici mesi. Lui è molto grande per la sua età. Come avete scelto il suo nome? Ho chiamato il mio figlio dopo il mio bisogno Aristodemus. In italiano significa migliore del popolo. Mamma mia, è bellissimo! Come è la scuola? Cosa fa l'università? Io studio la musica in Georgia State. Hai, au-re-e, au-re-e! A-ah-ha! Ah-ha-ha-ha! A-ah-ha-ha! Wuff! Is that a puppy? Oh ok, bye! Io non conosco perché il piace Ok I'm gonna make some Italian Pove Oh Hey Yeah, yeah And we hear the noise, it goes peep Alright, we'll do it again Hi, welcome to the Food Network, my name is Maria And I'll be teaching you how to cook Italian Oh my gosh